ciao ciao adesso video allora mi ha detto dericks del canale dericks e dangers che mi ha dedicato un video una canzone dove suona lava lava tratto dal film di willy wonka l'ultimo film che è uscito di willy wonka e io ho detto dai facciamo una reaction ascoltiamola insieme per la prima volta me l'ascolto adesso durante lui che suona magari parlare forse non è il caso quindi magari adesso ce l'ascoltiamo e sentiamo a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.